Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo leggervi una pagina del testo di Padre Marcellino Iassenzaniro, le sue testimonianze, la missione di salvare le anime. Ecco, il padre. Attraverso queste testimonianze Padre Marcellino ci fa adentrare in uno spaccato molto interessante della vita di Padre Pio. Ecco, nel rapporto con i penitenti, un elemento essenziale del sacramento del perdono che Padre Pio richiedeva per la completezza del sacramento era l'accusa delle colpe commesse. Infatti, dinanzi a Padre Pio scriveva un figlio spirituale, si era dei veri e propri libri aperti in cui lui leggeva e sfogliava queste pagine a suo piacimento. Ad esempio, c'è una signora che Padre Marcellino non scrive nel nome e nel cognome, ma la cita per iniziali, che poi diventerà una figlia spirituale di Padre Pio. Padre Marcellino racconta che ci offre una testimonianza bella. Ecco, tre confessioni avute con Padre Pio. In 1956 si presenta davanti a Padre Pio e dice «Padre, ho avuto dei dubbi sulla fede». Padre Pio resta in silenzio e poi le chiede «Quante volte?» e lei risponde infinitamente «Vai via, Dio solo è infinito». La signora si alza e se ne va. La volta successiva cerca di essere però più precisa, accusando sempre lo stesso peccato. e Padre Pio le chiede «Quante volte?» Lei dopo un attimo risponde «Padre, dieci volte» e vado sul virgolettato «Hai venduto dieci volte l'anima al diavolo? Vai via!» Questa volta Padre Pio va a porre l'accento sulla pericolosità di vagare per tanto tempo nel buio, dove lo spirito del male può mimare a poco a poco le certezze della fede, fino a condurre l'anima nella miscredenza. E allora la signora, e lo scrive proprio lei, non aveva la più piccola cognizione della confessione e fece notare direttamente a Padre Pio «Ma padre, è la seconda volta che mi cacciate!» E poi subito Padre Pio ribatte «E chissà quante volte ancora io ti caccerò!» E la penitente di nuovo ritornò, dopo diverso tempo, per la terza volta. Padre Pio invece qui l'accolse con molta dolcezza, facendole con pazienza un esame di coscienza particolareggiato, e disse «Figlia mia ti voglio aiutare!» Poi cominciò a domandare «Hai fatto questo? Hai fatto quest'altro?» E lei rispondeva soltanto «Sì, no!» Nella sua testimonianza la signora conclude proprio così «Padre Pio mi ha fatto entrare a poco a poco nella realtà del sacramento, mi diede la soluzione e poi mi mandò in pace». Non vogliamo aggiungere altro, perché questa signora diventa una delle figlie spirituali che per vivere proprio accanto a Padre Pio si stabili proprio qui, a San Giovanni d'Ottawa. Grazie a tutti!